Prima di salutarci, Norman ci dà un ultimo spunto. Gli esseri umani sono predisposti ad antropomorfizzare. Da questo spunto biologico, il suggerimento è quello di antropomorfizzare un prodotto per dare piacere nel suo utilizzo. Difatti le reazioni antropomorfe possono apportare grande gioia e piacere a chi usa un prodotto facendo reagire positivamente l'utente. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo riassunto. Io comunque vi consiglio di acquistare il libro Emotional Design di Donald A. Norman per approfondire meglio questi concetti che sono fondamentali. Ma soprattutto per fare i fighi con i vostri colleghi. Se non avete colleghi è molto semplice, lo potete utilizzare come comodissimo porta tazza. Se quello che avete visto vi è piaciuto, cliccate mi piace qua sotto oppure iscriviti per seguire pure i prossimi video riassunti sui migliori libri di business. E adesso il proverbio veneto del mese. A pagare e a morire che c'è sempre tempo. Cioè, per pagare e per morire il tempo c'è sempre.